Avevano preso di mira le cassettine di raccolta delle offerte all'interno del santuario del Tindari, riuscendo a portare via un bottino di circa 600 euro, ma sono stati bloccati ed arrestati in flagranza dai carabinieri. A finire in manette Mario Piacenti, di 50 anni, e Ferdinando Di Mauro, di 58, entrambi originari del Catanese e con vari precedenti di polizia. Numerosi fedeli frequentatori abituali del santuario avevano segnalato la presenza sospetta di questi soggetti già alle prime ore del mattino. I carabinieri di patti alla guida del capitano Lorenzo Buschettari hanno così iniziato dei servizi di pattugliamento in borghese per non destare sospetti sia all'interno che all'esterno del luogo di culto. Proprio questa mattina i due sospettati sono stati visti arrivare al santuario e mentre uno dei due fungeva da palo, in particolare il di Mauro, il secondo repentinamente con l'ausilio di un particolare al pioncino a molla, estraeva denaro dalle cassettine delle offerte dislocate in vari punti all'interno della chiesa per poi allontanarsi con disinvoltura e mischiarsi tra la folla di fedeli. Una volta visitate tutte le cassette i due sono usciti dal santuario ed hanno raggiunto la loro vettura lasciata nel parcheggio per i visitatori a 300 metri di distanza. Una volta saliti a bordo è scattata immediatamente l'operazione dei militari del nucleo radiomobile di patti. Una volta bloccati i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale veicolare. A bordo dell'autovettura occultati sotto il tappetino di guida i militari hanno rinvenuto circa 600 euro bottino del colpo mentre nascosti nel cofano posteriore i carabinieri hanno ritrovato particolari attrezzi utilizzati per i furti, un pioncino a molla, del nastro biadesivo e due strumenti metri metallici appositamente piegati per far aderire al meglio il nastro. Per Appiacenti e Di Mauro sono subito scattate le manette. Il reato contestato a entrambi è di furto aggravato in concorso in luogo di reverenza. Su disposizione della locale autorità giudiziaria gli arrestati sono stati condotti presso i locali della compagnia carabinieri di patti in attesa del rito direttissimo. Queste erano le torcette che utilizzavano.